La giunta regionale su proposta dall'assessora all'industria Maria Grazia Piras ha approvato la delibera che determina la chiusura del Consorzio Industriale di Prato Sardo a Nuoro e il trasferimento del personale e delle proprietà a favore del Comune del Capologo Barbaricino. Il provvedimento autorizza il commissario liquidatore ad attivare tutte le procedure per il passaggio dei dipendenti del Consorzio all'amministrazione comunale e definire gli adempimenti necessari alla definitiva chiusura della zona industriale. Entrano non oltre il 30 giugno 2019. Al Comune di Nuoro andranno anche i beni immobili destinati a finalità pubbliche. Il Consorzio di Prato Sardo ha una superficie di circa 255 ettari, di cui 144 sono di proprietà del Consorzio, mentre il resto è stato ceduto a terzi con atto pubblico. Il personale a tempo indeterminato è di 6 unità. La delibera, spiega in una nota all'assessora Piras, va nella direzione già tracciata in questi ultimi anni con altri provvedimenti in materia. In questo modo i Comuni hanno un ruolo sempre più forte nella gestione del territorio. Nello specifico, il Comune di Nuoro entra in possesso di aree sulle quali sarà possibile promuovere un nuovo sviluppo delle attività produttive. Il tutto è in una zona già fortemente caratterizzata da un polo imprenditoriale, nel quale opera un numero consistente di aziende. L'interoperazione, conclude la Sardo Piras, ha l'obiettivo di garantire i servizi alle imprese insediate, trasferendo al Comune le competenze ora esercitate dalle ZIR e puntare al contenimento dei costi nel rispetto della tutela dei lavoratori.